Chissà perché i sviluppatori devono fare le applicazioni meglio per iOS e non per Android Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su evosmart.it Oggi andiamo a fare la top 5 delle applicazioni per il mese di maggio per quanto riguarda iOS Non so voi ma per quanto mi riguarda mi è già successo diverse volte con il mio iPhone Ma anche con l'iPad per esempio di avere necessità di dover utilizzare il browser e avere due finestre magari contemporaneamente una vicino all'altra Ho cercato per tanto tempo un'applicazione che mi consentisse di fare questo senza aprire mille finestrine di qua e di là E senza dover scambiare in due secondi le varie finestre del browser E finalmente l'ho trovata, quest'app si chiama Web Duo Web Duo ragazzi è in sostanza un'applicazione che vi permette di utilizzare sul vostro dispositivo iOS Che sia un iPhone o che sia comunque un iPad e via dicendo Due finestre del browser aperte contemporaneamente Vedete in questo modo quindi potete navigare in contemporanea su due siti differenti E andare a vedere effettivamente due pagine differenti nel stesso momento Questo può essere utile magari per chi lavora o se volete seguire due cose in contemporanea Magari per metterle a confronto una vicino all'altra o anche delle foto Comunque può tornare comoda in determinate situazioni E sicuramente è un'applicazione interessante da avere sul proprio dispositivo iOS Magari sull'iPhone può essere un po' più scomoda Perché magari non abbiamo tutti il TNS Max ma abbiamo un iPhone con uno schermo un po' più piccolo Ma vado ad immaginare questa applicazione su un iPad Ed ecco che qua secondo me l'utilità è superiore In quanto abbiamo uno schermo molto più grosso E quindi possiamo godere al massimo di un browser spezzato in due Quindi possiamo caricare contemporaneamente due pagine differenti Vi è mai capitato di utilizzare il vostro iPhone Per scattare delle foto e dei video E poi doverli importare in alcune applicazioni Per dover attivare dei filtri, dei filtri colore Delle distorsioni particolari E che magari non vi soddisfacevano al 100% In quanto non potevate vedere in live come rimane all'effetto mentre scattavate la foto Beh se scaricate l'applicazione MuseMage potrete farlo In quanto potrete controllare filtri colore, effetti nelle foto E addirittura nei video utilizzare l'opzione green screen E beh quindi ragazzi chi ha un iPhone Magari chi vuole un'applicazione fotocamera più completa rispetto a quella di iPhone Comunque ha già le varie impostazioni generali Ma vuole più cose può scaricare MuseMage È un'applicazione che trovo veramente molto molto bella Ma partiamo dalle immagini qua Perché qua possiamo scattare l'immagine classica Andando qua in basso abbiamo tutte queste impostazioni Qualche poi in realtà sono dei filtri, degli effetti Tipo l'effetto bokeh, l'effetto tilt shift, vignetta, effetto flu Abbiamo un botto di cose L'effetto fisheye, l'effetto allunga, l'effetto vortice C'è tantissima roba Vedete qua ce n'è veramente da diventare pazzi E poi ci sono anche direttamente dei filtri colore per le foto Cioè il filtro colore per esempio in avventura A1, A02, A03 Andiamo in film c'è F01, F02, F03 Ce ne sono tantissime anche qua Bianco e nero Lomo documentario, light leak, filmato Cioè ci sono tantissime impostazioni che potete utilizzare per modificare le vostre foto E anche però i vostri video Perché se lo disattivo qua e vado in video Vedete che possiamo attivare il tutto anche nel video Questa è una cosa molto interessante perché possiamo personalizzare dei video magari per i social Ma anche per dare degli effetti particolari a dei video Al quali magari teniamo in particolare O vogliamo fare qualcosa di diverso tramite direttamente questa applicazione In manuale abbiamo tutti i settaggi Messa a fuoco, bilanciamento del bianco, gli ISO Abbiamo tutti i settaggi possibili ed immaginabili Ovviamente si può anche attivare i flash, disattivare il microfono, i video e via dicendo Magic Color Allora per quanto riguarda i video possiamo cambiare la tinta, la colore all'interno del video E poi c'è green screen Quindi girando un video con lo green screen potete già andare di serie a sostituire lo sfondo Con uno che c'è già incorporato Oppure crearne alcuni personalizzati Un'applicazione veramente molto interessante e gratuita Che potete scaricare tramite l'app store E che potrà essere utile a chi piace fare foto o video molto particolari Dimenticavo c'è anche il timelapse che potete comandare tramite qua Quindi decidere quanti scatti andrà a fare per creare il vostro timelapse E poi passa uno semplicemente una foto molto particolare con questo effetto Effetto un po' fantasma, non so come possiamo definire Vedete, rimane l'immagine stampata sopra Un'ottima applicazione che può veramente soddisfare gli amanti della fotografia Che magari fanno ogni tanto qualche foto con gli smartphone Voglio caricarle sui social network per fare degli scatti molto molto particolari O anche dei video E beh ragazzi come ogni top 5 che si rispetti Ovviamente anche questa volta non manca l'applicazione dedicata ai wallpaper In questo caso per iOS E devo dire che Papersco è un'applicazione veramente molto molto carina Per quanto riguarda i wallpaper E si conferma il fattore che certi sviluppatori preferiscono sviluppare applicazioni per iOS E farle in maniera veramente ottima e ben ottimizzate Ma soprattutto con alcune cose che per alcuni dispositivi Android non vengono fatte Chissà perché i sviluppatori devono fare le applicazioni meglio per iOS e non per Android E beh ragazzi non è una top 5 applicazioni se non ci fosse un'applicazione dedicata ai wallpaper No, visto che parliamo dell'iOS è la prima volta che la vediamo C'è anche la possibilità di rimuovere la pubblicità Lo dico subito tramite il pagamento di una somma di denaro Se no avete tutti questi wallpaper Andando qua avete tutte le varie categorie Ce ne sono veramente tantissime Per esempio scegliamo Natura Andiamo su una foto Qua vedete direttamente l'anteprima di come rimane sulla lock screen Poi toccando vi fa vedere come rimane sull'immagine generale del vostro iPhone Qua potete scaricare il tutto e poi ovviamente andare ad applicare il filtro direttamente Per crearvi appunto il vostro sfondo personalizzato per il vostro iPhone E beh, niente, tutto qua La quarta applicazione nonché penultima di questa top 5 È un'applicazione molto interessante Soprattutto in un'ottica futura Perché attualmente è già costruita bene Però ha dei bug, ha degli errori che poi vedrete un attimino E soprattutto ha ancora delle limitazioni Si chiama Food Vision In poche parole fate una foto all'alimento che avete davanti E lui vi dice tutti i valori nutrizionali Peccato che ci siano pochi alimenti E peccato che certe volte scambi i tasti della mia tastiera per dei macarons Ormai i nostri smartphone sono pieni zeppi di applicazioni Che possono aiutarci a vivere una vita più sana Quindi controllo del nostro cibo, le calorie ingerite e via dicendo Food Vision può essere una di queste Per ora ha un limite Cioè ci sono soltanto alcuni cibi che vedete qua nella lista Che possono essere effettivamente riconosciuti dall'applicazione Per esempio io ho provato con un pomodoro Non lo riconosceva Ma effettivamente riconosce un piatto di gnocchi Riconosce una ciambella Riconosce una torta di mele E poi vabbè in certe situazioni Come per esempio quella che vi faccio vedere tra poco Andrà praticamente a sbagliare Perché lo faccio vedere al volo Mi riconosce nella mia tastiera i macarons Perché? Perché lui prende il colore Macarons è all'interno del suo database E quindi riconosce il macarons Proviamo a fare una foto, vediamo E vedete che ci riconosce le calorie Ci fa vedere un grafico di carboidrati Proteine, grassi Ci fa vedere tutto quello che sono le varie informazioni Dedicate proprio per esempio al macarons Ripeto, ci sono ancora pochi piatti Ma lo sviluppatore sta aggiungendo Sta aggiornando Quindi pian piano metterà tanta tanta roba È un'applicazione interessante Può essere carina Soprattutto se verrà implementata con altri piatti Altri cibi E soprattutto si va a integrare con altre applicazioni della salute Che potete scaricare direttamente dall'app store Per cercare di tenere sotto controllo La vostra alimentazione e la vostra salute L'ultima applicazione che ho scaricato E che devo dire mi è tornata molto utile Soprattutto in quest'ultima settimana In cui ne ho avuto una necessità particolare sul lavoro Si chiama Copy Text On Screen In sostanza facendo una foto Oppure utilizzando uno screenshot Per esempio dello smartphone Selezionando il testo che vi interessa Lui andrà ad estrapolarlo dall'interno della foto E ve lo riporterà in forma testuale Quindi che potete copiare, modificare, inviare e via dicendo Questo può essere veramente molto comodo Anche e soprattutto come se sono in ambito lavorativo L'ultima applicazione si chiama Copy Text On Screen E vi permette in sostanza Una volta aperta di andare a recuperare uno screenshot O fare direttamente una foto E da quello screenshot andare a recuperare del testo Che magari può servirvi per un vostro progetto Per un qualcosa Per esempio io vado qua Ritaglio questa parte di testo qui Presa dal nostro articolo su evosmart.it Gli seleziono la lingua italiana Perché ci sono tutte le varie lingue Quindi se voi mettete italiano ma il testo in inglese farà molta fatica ad estrarre il tutto Fatto E lui cosa farà? Ci estrarrà il testo E ce lo va ad inserire in questo modo qua Quando voi aprite avete tutto il testo direttamente inserito qua Per un'eventualità Per doverlo inviare magari a un vostro amico Perché vi interessa solo quel pezzo di testo Per magari inserirlo all'interno di un qualcosa che state facendo Che vi può servire anche magari per lavoro E vi facite tutto tramite No Skin Tutto tramite il vostro smartphone Un'applicazione che può essere utile Fate chiaramente voi a caso Se può essere utile in base al vostro utilizzo o meno E anche per oggi ragazzi è tutto Per quanto mi riguarda questa è la prima top 5 per iOS Che vi portavo e cercherò di portavola ogni mese Come sempre ragazzi se vi è piaciuto il video Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete Ma soprattutto condividete i video con i vostri amici E beh ovviamente attivate anche la campanella delle notifiche Per ricevere la notifica ogni volta che caricheremo un video Lasciatemi qua sotto nei commenti come per le top 5 Android Alcuni nomi di applicazioni e anche giochi interessanti per iOS Che andrò poi a scaricare e a provare nei prossimi giorni Detto questo ragazzi vi auguro una buona giornata Una buona serata o un buon weekend Un saluto da Luke per lo smart.it Ciao